Quello che l'uomo semina, quello pure raccoglierà, c'è scritto nella Bibbia. Tante oggi più che mai sono le distrazioni per l'uomo. L'avidità e l'inganno delle ricchezze, per esempio, non possono garantirci la felicità nel cuore, la pace nel cuore e soprattutto la vita. La vera vita è infatti la vita in Dio, il datore della vita, senza il quale nulla esisterebbe. È colui per il quale noi stessi esistiamo, viviamo e siamo. Essere nella sua volontà, quello sì ci garantisce la felicità perché risulteremo essere al centro della sua volontà, che è il posto più sicuro in cui noi potremmo trovarci. Dio ci ha creati per renderci partecipi della sua gioia senza fine, ma spetta a ciascuno di noi fare spazio alla sua grazia, al suo amore, spetta a noi accogliere il suo progetto per la nostra vita e seminare il bene che Egli stesso ci elargisce generosamente. Ognuno sceglie dunque se stare con Cristo perseverando nella sua benignità, fidandosi e ubbidendo alla sua meravigliosa parola di vita e di libertà. Ognuno sceglie dunque è un progetto per la nostra vita e di libertà.